E proseguiamo con la musica, nuova produzione ricca di emozioni per Rolando Biscuola. Questo è un disco piuttosto leggero in un certo modo, in certo modo viene sottolineata più l'importanza della melodia rispetto alle tecniche esecutive o altre cose di questo genere. Semplificare per tornare alle origini, per arrivare diretti al cuore della gente. Questa è la filosofia che ha ispirato l'ultima fatica di Rolando Biscuola, compositore di Merano, già vincitore del Meeting Guitar International di Sarzana, in provincia di La Spezia. Il giusto riconoscimento per un amore incondizionato nei confronti della musica. La musica per me è la composizione, soprattutto. Ci sono vari aspetti che possono interessare un artista. Per qualcuno può essere forse di più il contatto col pubblico. Ci possono essere altre cose. Per me il divertimento più vero e la sfida più profonda è quella che riguarda la composizione. La presentazione di questo ultimo CD è in calendario venerdì 28 gennaio alla Casa della Cultura di Merano, in via Cavour, alle ore 20 e 30. Ad accompagnare Biscuola saranno cinque musicisti, Bolzanini, Gabardi, Facchin, Ghirardini, Randi, Plaikner. Il CD è in vendita nei vari negozi specializzati della provincia di Bolzano, soprattutto tra il capoluogo e Merano. Si può acquistare anche sul sito internet fingerpicking.net. Ci sono naturalmente brani che preferisco, altri che invece sono, ho già visto, che hanno un buon riscontro di ascolto da parte del pubblico. Comunque sicuramente si può dire che il brano per Cristine è uno sicuramente dei brani dove la melodia viene raccontata in modo molto chiaro e molto comunicativo. È un brano a cui io tengo molto, ma anche Sham, il brano che dà il titolo al disco, è un brano che ha una grande profondità per quello che mi... Per quello che mi dà, per le emozioni che mi dà e quindi ho preferito titolare, diciamo, dare il titolo al CD proprio con questo brano qui.